E' uno dei quartieri di Fano più popolosi e gettonati a ridosso del centro, ben servito e relativamente tranquillo con nuovi spazi verdi, da poco arricchiti dal comune con uno sgambatoio per i cani e nuovi giochi per i più piccoli. Ma dopo le asfaltature, che erano uno dei punti dolenti di questo quartiere, portate a termine con successo dall'amministrazione comunale, è un altro l'aspetto del verde pubblico che ora affligge una buona parte del quartiere, proprio a ridosso della piazza centrale, fulcro di tutti gli abitati. Alberi che attendono da anni una degna potatura e che invece sono lasciati al libero sfogo della natura, con la conseguenza che un palazzo proprio a ridosso del viale alberato ha praticamente i rami in casa ed i residenti chiedono giustamente maggiore attenzione e decoro. Quanti anni sono che questi alberi non vengono potati? Dal 1991, dal giorno in cui sono venuto a abitare qua. Adesso sta diventando un po' pesante, sarebbe ora che qualcuno venisse a controllare, guardare e poi prendere i dovuti provvedimenti e naturalmente potare nel periodo giusto che si debba potare. Tombini, quando piove? Tombini si allaga tutto, se non vengono a pulire due anni fa, a forza di insistere, sono venuti a pulire i tombini, infatti quando pioveva i problemi non c'erano. Da due anni a questa parte non si è visto più nessuno e quando piove è un disastro, sia qui che nella piazza dietro del parcheggio quello grande. Un altro punto però ancora in risolto restano le isole ecologiche, che non sono, secondo l'avviso di molti del posto, soprattutto anziani, fruibili con facilità ed insicurezza. Anche questa criticità è già stata evidenziata sia al sindaco che all'assessore competente. Ci siamo visti tre anni fa, è venuto il sindaco, gli ho fatto vedere la pericolosità dell'isola ecologica qua nella curva, per di più è posizionata sopra marciapiede, che le persone anziane fanno fatica ad andare a buttare i rifiuti, perciò lasciano tutto per terra perché non ce la fanno poveretti. Gli ho detto venite su a asfaltare, fate uno slargo dove posizionarli in un modo più consono, è fatto meglio. No, si è visto nessuno. Il sindaco mi ha detto che veniva su con quelli dell'Aset, io non ho visto nessuno. Chiedete un po' di attenzione per un quartiere che si sta bene sostanzialmente. Non è che si chiede la luna, si chiedono le cose per mettere in sicurezza poi perché non è che si chiede chissà che cosa, non è che cerco l'oro, non mi interessa.